La crisi e la morte dei primi emigrati ha spesso interrotto i legami tra l'Italia e tutti i suoi figli che sono andati in terre lontane a cercare fortuna. Dopo tanti anni è stato l'avvento del web, in particolare dello streaming, che ha contribuito a ricompattare e a ricostruire quel filo sottile che lega tutti gli italiani all'estero con la loro terra d'origine. Punto TV ha incontrato Luis Avellaneda, originario di Bitonto ma residente nel quartiere della Boca di Buenos Aires in Argentina, che in Puglia ha trascorso quasi l'intero mese di agosto. E' emozionato Luis quando descrive la prima volta della diretta streaming e soprattutto della possibilità di poter finalmente vedere come era fatta l'immagine di una Madonna di cui aveva sentito solo parlare dei suoi nonni. Abbiamo accesso il computer, fu così troppo forte vedere l'uscita della statua e abbiamo detto dobbiamo dirle che siamo qui, alla fine del mondo, come dice Papa Francesco, che siamo in Argentina ma con il pensiero e il cuore in Bitonto. I racconti degli emigrati sono pieni di storie, di amici, parenti che non possono tornare e che si raccomandano a chi può fare il viaggio di ritorno, di guardare con i loro occhi quello che loro ora possono solo sognare. Io avevo un'amica che era di Bitonto, già morto, ma la sua madre prima di morire sempre mi diceva quando tu andrai a Bitonto devi toccare per me e la portavare sana. L'obiettivo è quello di non perdere i contatti, di non staccare i legami e internet e le nuove tecnologie, dice Luis Avellaneda. Sono occasioni da non perdere per accorciare le distanze con la terra d'origine. Siamo qui alla fine del mondo ma dobbiamo avere una comunicazione fluita, dobbiamo sentirci più vicini e noi abbiamo questo impegno di non perdere perché i nostri padri non avevano questi mezzi di comunicazione e ora noi lo abbiamo, non dobbiamo perdere questa opportunità.